News pazzesche per quanto riguarda Bitcoin Albing dopo un po' di mesi dall'ultimo video che avevamo fatto a febbraio a febbraio sì esatto che aveva messo anche un po' di dubbi su una questione rilevantissima ci siamo andati vicino è stato esattamente come ci aspettavamo ma c'è un ma news impattati importantissime per Albing che danno anche la strada di questa fase correttiva di Bitcoin di questo movimento che potrebbe essere arrivato anche a una fase di consolidamento e in questo momento il rimbalzo in questione si va a configurare tra le altre cose con un rimbalzo cosiddetto pericolosissimo perché va a creare un pattern di inversione definito gatekeeper famosissimo importante stra utilizzato dalla storia delle cripto attention quindi perché in questo video andiamo a vedere quali sono stati i cambiamenti relativi alla struttura di Bitcoin per Albing ormai ci siamo è questione di cosa fatta e tra le altre cose andiamo a vedere quanta quanta possibilità c'è che questo movimento in effetti possa essere pericoloso bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video lancio la moneta mio dio era un lancio proprio incredibile ma è uscito che andiamo giù ragazzi vi assicuro è uscito che andiamo giù con la parte croce della moneta di Bitcoin ma vedremo appunto in questo video allora prima di andare avanti ragazzi come sempre andiamo a parlare del sponsor di oggi che è uno sponsor che parla di cyber sicurezza e che è ovviamente la piattaforma più importante il software più utilizzato come ecosistema per la cyber sicurezza quando navigate e quindi tutti quelli che sono i siti, i dati sensibili che andate a mettere online vengono protetti attraverso la VPN di NordVPN e tra le altre cose ci sono due funzioni estremamente importanti per gli amanti del settore delle criptovalute perché abbiamo la funzione della threat protection che è molto importante per il settore delle criptovalute in quanto oltre a bloccare i siti pericolosi tracker eccetera fa un controllo anche dei malware eccetera cosa importantissima perché se andate a scaricare alcuni software a volte con la questione dei mille scam che ci sono un controllo in più è sempre assolutamente positivo poi il fatto di avere i dati criptografati quando andate a inserirlo o magari andate a creare un wallet nuovo è fondamentale perché in quel caso anche la password phrase e il seed del wallet insomma non rischiate che sia esposto ai 420 attraverso la navigazione c'è anche un'altra funzione che mi piace molto di NordVPN anche perché si stanno espandendo se poi infatti andate a vedere qui perché NordVPN c'è la sezione funzionalità e ci sono sempre anche le novità quindi più dedicato, navigare in dark eccetera ma c'è il meshnet, il meshnet che cos'è? in pratica è una connessione tra dispositivi vi permette di condividere file tra diversi dispositivi in LAN anche giocare oppure anche controllare dei dispositivi attraverso altri dispositivi un po' quello che facevano alcune funzioni il remote desktop per esempio di Microsoft allora tutte queste funzioni rendono assolutamente NordVPN un ecosistema di cyber sicurezza stra avanzato e c'è una super offerta dal link che vi lascio in descrizione solo da quello perché il sito non la trovate ed è questa offerta oltre alla scontistica che guardate e vedete qui ci sono 4 mesi extra non trend link che vi lascio in descrizione sul piano biennale e in più c'è il soddisfatto e riposati per 30 giorni più di così che volete cioè voglio dire più protetti di così il cappuccio bene andiamo allora a vedere il grafico che vi ho mostrato in questo video che vi metto sopra la mia testa allora questa è una specie di video che continua quello precedente che riguardava l'alving di bitcoin alving il momento chiave che cambierà tutto l'avevo così intitolato quel video e questo è un video continuazione che riprende quello quindi se non lo avete ancora visto ragazzi immediatamente sopra la mia testa clicca al link anche perché questo lo continua allora vi faccio vedere tutti i grafici perché il grafico insomma con tutti gli alving strutturati ed inseriti allora facciamo la questione qui legata alla struttura dei vari alving quelle che vedete come linee di natura orizzontà e verticali sono gli alving di bitcoin dal 2012 abbiamo 2012, 2016, 2020, 2024 che sta per arrivare imminente tra le altre cose vi faccio vedere quanto manca so 25 giorni all'alving di bitcoin e questi 25 giorni sono importanti perché siamo arrivati sparati a mille in piena struttura dell'alving di bitcoin addirittura gli etf hanno surclassato la news dell'alving prima tanti anni fa c'era molta attenzione all'alving di bitcoin perché era una vera notizia di natura macroeconomica impattante adesso invece la notizia impattante sono stati gli etf per l'avvento di questi investimenti massicci che poi ancora non abbiamo dubbi se siano effettivamente istituzionali istituzionali piccoli oppure solo retail grandi e investitori grandi ancora questa cosa non si è capita perché dai vari video di cui vi ho parlato ci sono un po' di dubbi sulla consistenza degli ordini degli etf ma morale della favola comunque l'alving di bitcoin di cui nessuno si importa in questo momento esiste esiste ragazzi e sarà il 21 in questo momento di aprile si sta spostando poco 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 più avanti prima del 18 ora è il 21 tra qualche giorno sarà il 25 non lo so una cosa del genere vabbè no credo che dovrebbe essere più o meno intorno alla data del 21 di aprile tra le altre cose questo alving io l'ho già impostato sul grafico che vi stavo facendo vedere quello insomma dell'alving appunto di bitcoin l'ho ritrovato eccolo qui e ho già inserito la variabile all'alving cioè questa linea alla 21 vediamo se è giusto oppure lo devo spostare mi sa che è impostata al 15 quindi devo mandarla è vero ragazzi scusate un attimo allora questo era a livello settimanale dovevo impostare il grafico a livello daily e rispostarlo avanti al 21 ecco qui allora la questione era il comportamento di bitcoin pre-alving era in quel video insomma che vi ho detto io faccio riferimento a questo comportamento di bitcoin pre-alving era un comportamento che l'attuale situazione è quella di avere massimi costanti e continui che aumentano nel corso delle settimane precedenti all'alving non era così normale infatti c'era un po' di anomalia da questo punto di vista ma neanche tanto da un punto di vista storico cioè alcuni alving che erano stati quelli precedenti cioè l'alving del 2020 un alving anomalo a prescindere comunque anche perché impattato dalla questione della pandemia con 2019 difficile con poi l'alzata di tassi di interesse quindi tutto una serie di dati totalmente anomali rispetto a quello che erano la struttura normale quello che vedete qui in effetti non è mai avvenuto anche per questo crash così pulminio dovuto alla questione della pandemia ovviamente non ci sarebbe stato se non che in ogni caso l'attuale situazione come potete anche vedere è completamente differente perché qui abbiamo una specie di linea retta con classiche oscillazioni qui neanche a parlarne era una specie di barra di congestione rialzista con due minimi leggermente rialzisti pre-alving ma qui siamo a distanza abnorme quindi questa struttura storica di bitcoin non ha nulla a che vedere con quella del 2019 così come non ha nulla a che vedere neanche nella intensità di rialzo e neanche nei movimenti nella tipologia di volatilità che si è andata a creare ma questo è corretto perché i dati storici non sono mai rappresentativi del futuro quello di cui sono rappresentativi sono dell'atteggiamento di un mercato e quello si può utilizzare da un punto di vista emotivo riflessivo nel caso poi di bitcoin in particolar modo l'avvento delle TF ha modificato anche la struttura sottostante a questi atteggiamenti per cui aspettatevi qualsiasi cosa perché i dati del passato dal punto di vista oggettivo non sono più così significativi per quello che effettivamente potrebbe avvenire nei prossimi mesi ancora non c'è tanto spazio dall'avvento delle TF in poi per poter avere serie storiche diciamo accettabili bensì ci sono dei dati che noi possiamo prendere a riferimento dal passato come atteggiamenti e farne tesoro però dobbiamo ricordarci che tante cose sono modificate con l'avvento degli TF ovviamente la parte ciclica che è quella che mi piace più di tutti il tempo il tempo non è modificato potrebbe essere variato da un certo punto di vista l'analisi ciclica però è più facile avere una continuità negli atteggiamenti di natura ciclica piuttosto che una continuità negli atteggiamenti di natura da price action di prezzo di volatilità di volumi perché quelli sono sicuramente impattati dall'avvento degli TF mentre la parte ciclica teoricamente lo sarebbe ma non del tutto perché la struttura temporale resta comunque la stessa e abbiamo ancora visto che forte l'avvento degli TF è ancora troppo piccolo anche per impattare da un punto di vista ciclico quindi sì ci sono li consideriamo però sicuramente il settore ciclico ancora ha molta più può avere diciamo molta più valenza allora andiamo a vedere la questione legata ai dati precedenti questo ciclo nel video che vi ho detto insomma di rifarvi un briefing io accennavo al fatto che l'anno 2024 halving 2024 forse molto più assimile a questo anno qui cioè l'halving del 2016 e quindi lanciasse poi un'eventuale fase di bolla stile burran chiamiamolo così che altrimenti qualcuno si nervosisce stile quella del 2017 oppure potevamo farla rientrare nel concetto del 2012 cioè proprio in questa struttura con la questione che il mercato andava a fare un'app vicino l'halving invece di fare un down prima dell'halving e poi andare a fare una barra di congestione ora da quelle che è la situazione noi possiamo fare da questi che sono i due stereotipi i due diciamo le due strutture possiamo fare un'analisi molto semplice dall'halving nel 2012 quindi quello molto vecchio 104 giorni 100 giorni circa dal massimo verso l'halving e se andiamo a considerare la clause però si evince anche un'altra cosa che intanto lo dobbiamo rigorosamente fare perché parliamo del 2012 quindi un mondo completamente diverso dalla bitcoin attuale perciò già una cosa del genere la usiamo perché non abbiamo altri dati altrimenti non la useremo neanche però dobbiamo rigorosamente anche eliminare magari la volatilità utilizzando la clause delle candele perché magari la volatilità si riduce altrimenti proprio siamo fuori dal mondo insomma a fare un'analisi di questo tipo allora qui abbiamo due massimi 1 a 55 giorni e 1 a 100 giorni pre-halving in sostanza un dato che abbiamo qual è il numero dei giorni precisi la settimana dell'anno l'ora dell'anno vediamo chi di voi mi insomma pensatelo anzi scrivetelo nei commenti chi di voi scrive nei commenti quale dato abbiamo tanto ve lo dico fra pochi secondi però il dato che noi abbiamo da qui è 1 e 1 solo viene fatto un massimo prima dell'halving e poi verso la settimana dell'halving c'è una zona ribassista laterale cioè si ferma tutto prima dell'halving ma pochi giorni prima questo è il dato che noi otteniamo da un punto di vista tecnico analizzando questa questione qui questa serie storica chiamiamola in questo modo cosa succede invece nella in quello che è il grafico dell'halving del 2016 una cosa che io ritengo assolutamente più normale cioè quello legato a un massimo e ancora una volta pochi giorni prima dell'halving e poi barra di congestione laterale ribassista c'è un ribasso a dire la verità un po' più consistente 23 giorni prima quindi lì eravamo tra 55 e 100 qui siamo tra 23 giorni ma dove siamo adesso questa è la domanda che dovremmo fare intanto anche da un punto di vista di struttura rialzista e anche da un punto di vista storico il l'halving del 2016 è molto più vicino a quello attuale e anche molto più vicino perché c'è un dato che molti non magari in questo momento non ci state pensando ma un dato c'è ed è un dato proprio di natura macro nel 2016 2017 venne approvato il future di bitcoin del CME e ci fu una corsa alla acquisizione dei bitcoin per metterli a garanzia del future CME esattamente la stessa identica cosa che è avvenuta con gli etf solo che gli etf l'impatto è 5 volte maggiore anche di più rispetto al future del CME però bitcoin è molto più pesante in termini di capitalizzazione rispetto a quello che era nel 2016 quindi da una parte abbiamo un impatto maggiore dagli etf dall'altra però abbiamo bitcoin che è una corazzata alla fantozzi che chi se lo ricorda è un cult in cinema e allora questa cosa qui impone che ok da una parte tiri dall'altra molli sostanzialmente quella lì quindi è vero nel 2017 abbiamo avuto un grande impatto ma perché perché ragazzi all'albing bitcoin valeva 500 600 dollari io ve lo dico ve lo ripeto io me lo ricordo io ci stavo 500 600 dollari valeva bitcoin va bene ok va bene chiuso il discorso e basta detto questo la struttura rialzista fu praticamente un lineare quasi lineare rialzista poi esponenziale finale con crash di bear market classico insomma eccetera l'attuale situazione è decisamente molto più simile a questa qui tra le altre cose è anche migliorativa di questa come giusto che sia perché perché lì avevamo intanto l'impatto dei future avvenne dopo in questo caso il il l'abbing del 2016 ma in questo caso l'impatto degli etf è più consistente come vi stavo dicendo in termini numerici però bitcoin è più pesante e quindi si muove di meno questo significa che abbiamo una spinta più consistente e un movimento più ristretto da un certo punto di vista significa oscillazione più lineare e infatti esattamente quello che abbiamo visto perché dai minimi del bear market qui ci sono stati dei doppi minimi però anche le oscillazioni guardate come erano eh comunque più impulsive perché il bitcoin era più piccolo e l'impatto degli etf dei future avvenne solo verso il 2017 in questa zona qui quindi solo alla parte finale mentre qui abbiamo delle oscillazioni ovviamente ma più lineari più pulite se infatti andiamo a utilizzare il grafico a chiusura quasi sembra che non oscilli così tanto e questo è molto molto rilevante allora detto questo andiamo a concludere la questione questa fase che stiamo vivendo è molto simile a quella del 2016 se tra le altre cose qui tranciate in pratica questa zona di ribasso nel 2016 e fate un riferimento a una fase di alzista più lineare esce in pratica la stessa figura molto simile cioè rialzo allora qual è l'altra informazione che abbiamo i prezzi monoguali precisi fotocopi assolutamente niente di tutto ciò è un punto di vista di immagini che possono sembrare simili ma la mente umana va sempre alla ricerca di combinazioni che invece non esistono è solo casualità quello che esiste invece è un atteggiamento ben determinato una forza attrattiva che si trascina il prezzo in maniera lineare molto più facile molto più diciamo potente rispetto a a quelli che erano in altri cicli come ad esempio quello del 2019 l'halving cosa fa? l'halving è un punto di arrivo però in questo caso anche in questo caso diciamo lo sarà perché gli etf ormai sappiamo che ci sono però in questo caso potrebbe essere anche sfruttato gli etf per una fase di riaccumulazione quindi è una fase un lean trend che ci dà la possibilità di fare dei paragoni tra questi due ora il precedente massimo in questo ciclo fu toccato 20 giorni 30 giorni prima dell'halving dove siamo ora? dove siamo in questo momento? questa fase qui intanto io questo video ragazzi che avevo fatto a settembre l'abbiamo fatto a febbraio i primi di febbraio eravamo in questa zona qui e vi avevo detto stiamo andando verso un massimo pre-halving molto diverso dal 2019 rivedete il video ce l'avete sulla mia testa anzi ve lo ripubblico ve lo ripubblico adesso per chi si è perso il link lo trovate sulla mia testa benissimo allora in quel video vi dicevo siamo simili al 2017 stiamo andando a fare un massimo pre-halving il massimo è stato fatto è stato fatto qui quanti giorni sono passati da questo massimo e otteniamo anche una rispostina 37 giorni allora siamo nella fase centrale allora qualsiasi cosa fa bitcoin da qui in poi è irrilevante rispetto alle serie storiche perché anche volendo andare a tentare di fare un nuovo massimo in questa fase prima di chiudere ci può stare tranquillamente perché possiamo avere una fase a 20 giorni dall'halving e quindi tra qualche giorno tentare il massimo oppure averla costruita qui a 38 perché 20-30 giorni non cambia assolutamente niente cioè i termini ciclici l'informazione che noi avevamo dai cicli precedenti e cioè che in una fase di tenuta in una fase più lineare in una fase in cui c'era il future di cme di bitcoin che accumulava o c'era l'idea che potesse farlo il ciclo attuale di bitcoin è stato lineare e riazista ed ha fatto i massimi un mesetto prima rispetto all'halving e a questo mesetto prima noi ci siamo già arrivati quindi ok sì l'ultima volta l'ha fatti 20 giorni prima l'ora l'ha fatti 33-38 non so quanti sono potrebbe rifarlo assolutamente sì potrebbe tentare di fare un altro massimo ma il legger sono questo è concettualmente il discorso quindi se da qui bitcoin volesse andare a riposare poco poco fare un laterale leggero potrebbe tranquillamente farlo sarebbe intanto cosa buona e giusta anche da un punto di vista al discarico degli indicatori e la pasqua c'è di mezzo anche la pasqua non ve lo ricordate da domani è tutto chiuso mercati sono chiusi fino al martedì quindi in pratica i volumi sono bassi la gente non gli frega un tubo di fare queste cose quindi ok ci possono essere volatilità nel mercato delle cripto perché in queste condizioni di mercati chiusi lì le balene e soprattutto chi vuole far scattare stop per fare tante operazioni ci va a nozze quindi purtroppo capita ragazzi questa cosa la dobbiamo mettere in conto però in sostanza le c'è un fè rieva blu cioè noi possiamo fare magari un altro massimino vicino ma poi il tempo stringe teoricamente arriverebbe l'alving teoricamente forse è il momento di assistere ad una fase laterale quanto dura la fase laterale successiva che questo è secondo me invece il grande grande dubbio più se abbiamo fatto il massimo meno ci prega tanto e non quanto anche perché teoricamente non dovrebbe essere il massimo finale di questa fase qui abbiamo circa un ribasso di una quarantina di giorni 40-50 giorni con poi una fase di ripresa eventuale del massimo che è avvenuta tanti giorni dopo l'avevo già fatta diciamo questa analisi nel video famoso eccola qui avvenne 180 giorni dopo quindi ci fu un ribasso consistente e poi invece in questa fase del 2012 l'altro la ripresa dei massimi avvenne dopo 112 giorni in pratica 3 mesi circa 3-4 mesi quindi tutta l'estate se dovessimo ragionare in questo modo ipotizzando che qui Bitcoin abbia fatto il suo è vero massimo quindi potrebbe andare a cincischiare per una 50-60 giorni circa per fare il minimo e poi riandare a riprendere una fase rialzista per un centinaio fino a superare questi eventuali massimi tra un centinaio di giorni quindi teoricamente dopo giugno 2024 verso luglio quindi teoricamente dopo la chiusura di una struttura ciclica che tra l'altro è sottostante potremmo assistere a una cosa magari del genere e poi andare a superare questi massimi allora questa fase si sta andando ad alineare su Bitcoin che cosa fare in questa fase trading per chi è trader niente per chi è holder cioè questo sostanzialmente è il discorso ci sono dei livelli che dobbiamo strettamente monitorare prima di tutto senza dubbio il livello dei 62 mila dollari che a questo punto diventa spartiacque e che andrebbe anche ad essere delicatuccio in base a questo grafico grafico molto veloce ragazzi è un pattern famosissimo che si chiama Gatekeeper vi lo faccio vedere viene confermato se questa candela non dura non a livello di non a livello di 90 minuti cioè delle tre ore lì 180 minuti ma a livello giornaliero e teoricamente questa candela rossa può essere pericolosa ragazzi perché confermerebbe l'inversione del Gatekeeper quindi se la close di questa candela di oggi va al di sotto di questo minimo in maniera consistente ora non è in maniera consistente quindi non può essere valutata come una conferma perché è vicina troppo vicina al minimo questo minimo è stato a 69,250 qui siamo a 69,160 qui in 100 dollari sono insignificanti deve scendere almeno a 68,7 68,5 questa zona qui almeno una close per andare a confermare che cosa questo pattern di inversione e a quel punto ragazzi ci sarebbe da attendere perché massimo patto per quanto riguarda la struttura dei cicli legati all'halving di bitcoin il tempo ci sta e tutto è ok crolli cose eccetera non ho parlato di queste cose sto parlando di una fase di respiro abbiamo la Pasqua tanti giorni di attesa vediamo cosa succede dopo però ovviamente questo è un segnale anche negativo attenzione se non conferma il gatekeeper ancora un ultimo slancetto potrebbe anche farlo ma poi quanti giorni resterebbero per fare ancora nuovi massimi sarebbe continuare il rialzo senza limiti sarebbe la prima volta che avviene in tutti i cicli dell'halving di bitcoin ben venga se viene però ragazzi io ve lo devo dire sarebbe la prima volta bene per oggi è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao ragazzi ah non vi siete ancora iscritti al canale e perché e che fate lasciatemi un piace ovviamente e iscrivetevi al canale ciao